Ho investito in Bitcoin con le mie aziende, ma credo di aver commesso un errore. Ti racconto la mia esperienza, così magari puoi evitare anche tu di incorrere in errore. Ciao investitore e benvenuto in questo nuovo video. Io sono Filippo Angeloni, consulente finanziario indipendente ed imprenditore. Con due delle mie tre società abbiamo investito in Bitcoin. Quindi ci siamo andati ad acquistare sul mercato spot, abbiamo acquistato veramente dei Bitcoin. Non abbiamo investito in ETC, ETN, ETF americani magari su Bitcoin, abbiamo proprio investito su Bitcoin spot. E probabilmente ci abbiamo investito anche al di sopra delle nostre possibilità. Nel senso che abbiamo spinto un pochino troppo la mano, ne abbiamo acquistati più del dovuto, più del buonsenso. Rispetto alla nostra realtà, che comunque è una piccola realtà, non è che siamo una multinazionale come MicroStrategy. MicroStrategy, se non la conosci, che non sei di questo mondo, di questo campo, è una società americana quotata in borsa, che intende Bitcoin come la propria liquidità a bilancio. Quindi va a convertire tutti i dollari, la valuta che utilizza, in Bitcoin. Va a emettere obbligazioni, o comunque a richiedere prestiti per investire in Bitcoin. Va a diluire gli azionisti, creando nuove azioni e rivendendo queste azioni per investire in Bitcoin. Quindi fa una sorta di operatività pazza e folle su Bitcoin. Ad oggi MicroStrategy è in guadagno, quindi è stata una mossa vincente per MicroStrategy e per i suoi azionisti. Perché il prezzo del titolo quotato è salito moltissimo, veramente tanto, e ha prodotto una performance davvero ottima. Ha battuto il mercato. Per carità, noi con le aziende non abbiamo preso prestiti per investire in Bitcoin, non siamo andati a leva. Non abbiamo fatto la gestione folle di MicroStrategy, però abbiamo fatto il nostro, nel senso che abbiamo investito via via in Bitcoin. E ripeto, probabilmente, anche qua è stato il mio errore, abbiamo investito più del dovuto in Bitcoin. A livello fiscale e di bilancio non è stato difficile in realtà per le società acquistare Bitcoin e poi gestire Bitcoin a livello di bilancio, ripeto. Perché abbiamo commercialisti in grado di farlo e comunque fa parte anche in parte del nostro lavoro. Cioè aiutiamo le aziende a superare questa criticità. Ti dico la verità, ad oggi in Italia non è più un problema la gestione di Bitcoin in bilancio. Quindi non c'è problema qua. A livello invece di detenzione, di possesso proprio in maniera pratica dei Bitcoin, noi come società utilizziamo Hardware Wallet, quindi dei portafogli su dispositivi esterni, multifirma. Quindi servono più firme, serve il consenso di più persone per trasferire e spostare questi Bitcoin. Acquistiamo su Exchange, tutto registrato. Utilizziamo Kraken in questo momento. In passato, tra parentesi, abbiamo utilizzato anche un Exchange che è fallito, che si chiamava The Rock Trading. Ad ogni acquisto su Exchange, quindi depositiamo Euro su Exchange, convertiamo in Bitcoin e preleviamo all'istante. Preleviamo subito e preleviamo appunto e trasferiamo i Bitcoin sui nostri wallet societari. Quindi non lasciamo mai nulla in Exchange. Anche qua non è difficile. Fa parte pure questo del nostro lavoro e aiutiamo aziende anche in questo. Quindi per noi non è stato un problema nella gestione di Bitcoin a bilancio, nella gestione operativa proprio di Bitcoin. Al momento, l'unica mia società a non possedere Bitcoin paradossalmente è Atene SCF, società di consulenza finanziaria indipendente che si occupa anche di investimenti in Bitcoin e criptovalute. Atene SCF non possiede Bitcoin in questo momento non perché a livello di legge non può possederli, perché Atene SCF è una società un po' particolare, è ben normata, ma perché in questo momento stiamo praticamente reinvestendo tutto in azienda, che è un po' anche il tema centrale di questo video e un po' anche la conclusione di questo video. Ad ogni modo prevediamo in futuro di acquistare Bitcoin pure con Atene, infatti siamo nella fase finale di registrazione di un account societario su Kraken con Atene, quindi c'è comunque l'idea pure su Atene SCF di acquistare Bitcoin. Quello che devi sapere, prima di sentire un po' le conclusioni, il tema centrale di questo video, è che con tutte le società, non è per fare un vanto, nel senso che con tutte le società siamo in guadagno su Bitcoin, quindi con l'acquisto di Bitcoin, con l'investimento, chiamiamolo come vogliamo, siamo in guadagno con le società e anche di molto. In una società, si chiama Coinsquare, ci è pure capitato di incorrere una perdita di 20.000€ su The Rock Trading, non perché avevamo investito in Bitcoin, ma in realtà perché avevamo depositato delle stablecoin ricevuti come ricavi per la vendita di un nostro prodotto, che volevamo convertire in euro, noi abbiamo richiesto, abbiamo depositato stablecoin, richiesto la conversione istantanea, richiesto subito il prelievo, il bonifico però in euro non è mai arrivato perché l'exchange è fallito in quel momento. Questo a livello emotivo fa ancora più male perché non era un investimento per noi, era parte di un ricavo, era insomma fatturato, quindi non volevamo vedere volatilità su questi soldi, su questo ammontare. Il fatto è che pure se ci conteggiamo questa perdita, è incredibile, pure se conteggiamo questa perdita, che ripeto in realtà è scorretto perché non è un investimento in Bitcoin ma era altro, era una conversione istantanea di stablecoin per euro che era frutto insomma del nostro lavoro, pure se conteggiamo questa perdita siamo comunque in guadagno con il nostro investimento in Bitcoin. Con Bitcoin, fidati di me, succede pure questo, cioè pure se perdi dei soldi, delle cripto o dei Bitcoin per qualche assurdo motivo, comunque nel corso del tempo li rifai, è incredibile. Quindi ripeto, a livello societario non ci possiamo assolutamente lamentare dell'investimento in Bitcoin, ma c'è un però e ti voglio raccontare questo però. Ora i prezzi salgono e basta, è facile quando è così. C'è stato però una fase, un momento che è durato anche a lungo, dove i prezzi scendevano e basta, o dove comunque i prezzi non risalivano nemmeno se li tiravi su con le bombe. Ci sono stati a livello societario, soprattutto, cioè in particolare su una società, dei momenti delicati, dei momenti in cui magari avevamo pochissimo liquidità in euro e facevamo magari fatica a pagare imposte, a pagare tasse, a pagare compensi amministratore e paradossalmente avevamo tanto, per sempre quella piccola realtà, in Bitcoin. Però il prezzo del Bitcoin in quel momento era sotto il nostro prezzo di carico. Quindi c'è stato sicuramente un errore da parte mia, da parte nostra, perché avevamo investito più del dovuto e in alcune fasi eravamo tentati di rivendere questi Bitcoin in perdita, cioè sotto al prezzo di acquisto, per far fronte ovviamente alle uscite, alla gestione societaria. Alla fine non l'ho fatto, ho tenuto botta e col senno del poi è andata meglio così. Però capisci che è stato un momento delicato per la vita di una società e di una piccola società. Altre società avrebbero potuto fallire, oppure avrebbero potuto incorrere in un capital loss per il fatto di rivendere Bitcoin in perdita, in un momento inopportuno. Lo rifarei, dopo tutto, di acquistare Bitcoin, di investire in Bitcoin con l'azienda? Sì, però non mi farei prendere così tanto la mano. Quindi ne andrei ad accantonare un pochino via via nel corso del tempo, però senza esagerare. Per me, acquistare Bitcoin con l'azienda o acquistare Bitcoin a livello personale è come mettere al sicuro i frutti del mio lavoro, cioè il tempo che ho dedicato a guadagnare quei soldi, la fatica che ho fatto per guadagnare quei soldi, la metto al sicuro investendo il ricavato, il frutto del mio lavoro, in Bitcoin. Quella fatica e quel tempo perso non si svalutano come succede agli euro o alle valute fiat per inflazione, per rita del potere di acquisto nel corso del tempo. Ma anzi, paradossalmente, oltre che mantenere il potere di acquisto, aumentano pure il potere di acquisto. Quindi do ancora più valore al mio tempo che ho speso per guadagnare quei soldi e alla fatica che ho fatto per guadagnare quei soldi. Bitcoin va però ammesso, altrimenti saremmo folli, cioè saremmo non veri con noi stessi o con gli altri, va ammesso che è comunque molto volatile. Quindi va utilizzato con cautela, soprattutto a livello societario. Quindi lo rifarei di comprare Bitcoin con l'azienda, sì, tutta la vita, però senza esagerare, senza fare quel rush mortale per acquistare più Bitcoin possibili. Ti spiego perché. Se una società è di piccole dimensioni, ancora può crescere moltissimo. C'è un ampio margine di miglioramento ed è pure semplice migliorare se una società è piccola. Servono però investimenti per far crescere la società, ma non investimenti in asset class finanziaria. Non è che ti compri Bitcoin o ti compri un'azione o ti compri l'oro o ti compri un'obbligazione. Serve reinvestire sulla tua azienda. La liquidità infatti non va lasciata ferma in azienda, va messa a frutto. Va reinvestita sulla propria azienda, soprattutto, ripeto, se l'azienda può crescere, può far bene nel corso del tempo. Quindi qual è la verità nel mio caso? Ti racconto in maniera sincera la mia esperienza a livello societario. Benché ad oggi le mie società siano in guadagno, e di molto, con l'investimento in Bitcoin, avrei fatto meglio a reinvestire quella somma in azienda. Credo di aver commesso un errore qua. A volte sbaglio anch'io, qua ho sbagliato. Perché comunque stiamo parlando non di multinazionali che hanno saturato il mercato, stiamo parlando di piccole aziende con un ampio margine di miglioramento che è facile farle crescere e possono crescere tanto. È un po' come il dilemma societario che esiste nel mondo degli investimenti per le azioni, per le azioni singole. Se dare il dividendo agli azionisti o reinvestire, quella a montare nell'azienda stessa. Se la società è capace di generare un rendimento per l'azionista tramite il reinvestimento in azienda superiore rispetto al rendimento offerto dal dividendo, sempre per l'azionista, allora è meglio tutta la vita, come afferma Warren Buffett, non dare il dividendo ma reinvestire sull'azienda perché dai un ritorno superiore all'azionista. Tradotto nel caso di Bitcoin, che è il nostro caso, se la società è capace di generare un rendimento superiore per l'azionista o per il proprietario tramite il reinvestimento rispetto alla performance del Bitcoin, allora è meglio tutta la vita reinvestire quella a montare nella propria azienda, piuttosto che metterlo in Bitcoin. Se la società è piccola e se ci sai fare, la verità è che è molto semplice battere la performance di Bitcoin. Per carità c'è sempre il rischio imprenditoriale, ci sono sempre i rischi, però se la società è piccola e se ci sai fare è molto facile che tu vai a generare un rendimento, una performance superiore tramite il reinvestimento in azienda, ripeto, rispetto alla performance del Bitcoin. Quindi ad oggi, con le mie società, se tornassi indietro, non farei un rush mortale per acquisire più Bitcoin possibili e immaginabili, per sempre la nostra piccola realtà, ma andrei a reinvestire di più in azienda. Acquisterei comunque Bitcoin, sì, non è che rinnego tutto, riacquisterei comunque Bitcoin, mi ha fatto comunque guadagnare, però non in maniera esagerata. Mentre il consiglio che sento di dare ad imprenditori fortunati, con aziende di media dimensione o di grande dimensione, aziende dove è difficile continuare a crescere a ritmi sostenuti, perché ormai hanno una dimensione elevata, hanno magari saturato il mercato o dove comunque è proprio difficile tecnicamente crescere, il mio consiglio che sento di darmi è quello di valutare l'opzione Bitcoin, stile microstrategi, senza esagerare, senza prestiti, senza andare in leva. Perché lì magari è molto più probabile, è molto più facile ottenere una performance superiore con Bitcoin rispetto alla performance che puoi ottenere con l'azienda, magari anche a parità di rischio. Ripeto un concetto perché non vorrei che ci siano fraintendimenti. Per me ad oggi resta comunque un'ottima idea quella di investire in Bitcoin e di acquisire Bitcoin, per mettere al salvo il frutto del proprio lavoro, per mettere al salvo il tempo che è dedicato a quel lavoro e la fatica che ci hai dedicato. Però dobbiamo anche capire di che tipo di azienda stiamo parlando. Quindi per un'azienda può essere il caso di investire in Bitcoin, per altre aziende come quelle magari di piccole dimensioni, può essere buonissima idea investire comunque in Bitcoin ma senza esagerare, come ho fatto io. Nel mio caso ho commesso un errore. Avrei prodotto un rendimento per me stesso superiore tramite il rinvestimento. Almeno ad oggi, poi se domani Bitcoin va sulla luna vedremo. Però ad oggi avrei senza dubbio fatto un rendimento superiore tramite il rinvestimento in azienda. Quindi non sto dicendo che non andrei a rinvestire più su Bitcoin, anzi continuerei ad investire, probabilmente lo faremo con quelle aziende, continueremo a investire, però andrei ad investire quella liquidità in eccesso tolti i rinvestimenti in azienda e tolta anche quella liquidità da buonsenso da tenere per far fronte proprio alle spese della gestione, la normale gestione societaria. Avere ed aprire un wallet Bitcoin per un'azienda è comunque una buonissima idea anche solo in ottica di diversificazione, vai a limitare un po' il rischio banche. Quindi è una buonissima idea per un'azienda anche di piccole dimensioni avere un wallet Bitcoin. Però te lo dico perché succede che ti fai prendere un po' la mano. Quindi dobbiamo gestirci dal lato imprenditori, dobbiamo gestirci. Un conto è fare gli investitori, un conto è fare gli imprenditori. Fammi sapere cosa ne pensi di questo video, fammi sapere se ti è stato utile e raccontami la tua, magari se sei un imprenditore o se hai una partita IVA o se hai una tua realtà. Fammi sapere se hai già investito con la tua realtà in Bitcoin o se intendi investire in Bitcoin. Con questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!